E' un viaggio sorprendente quello di organizzare una conference come International Rotars Gathering 2023. E' un viaggio nel quale molti livelli di complessità si intersecano. Io pensavo all'intelligenza artificiale che sta cambiando e cambierà il mondo in un modo assolutamente impensabile. E stavo pensando che non si potrebbe fare altro che sospendere il giudizio. Che ne sappiamo? Poi mi sono accorto che sto organizzando una conference che si chiama Risvegliarsi, fuori dalla caverna. E allora mi sono accorto. Ci interroghiamo sull'intelligenza artificiale, sul suo futuro, su cosa potrà fare, su dove potrà arrivare. Ma non abbiamo pensato di vederla da un altro punto di vista. Cosa non potrà mai fare? Non potrà risvegliarsi. Non potrà disidentificarsi, scomparire a se stessa e cogliere così la propria vera natura. Perché la propria vera natura sarebbe chip, silicio, contatti elettrici. L'essere umano imprende a risvegliarsi alla propria vera natura. Scomparendo all'identificazione proprio io, trova a se stessa, trova a se stessa. Trova appunto la propria essenza, la propria sé. Ecco cosa ci differenzia e differenzia da sempre. Ecco cosa ci salva dall'esasperazione tecnologica, che altro non è se non un'esasperazione dell'io. Ecco che ritrovarci, presvegliarci, per interrogarci sul risveglio, sulla disidentificazione, sul città della caverna delle nostre illusioni, si caratterizza come una delle esperienze più straordinarie che noi possiamo fare. E uno dei contributi più ricchi e attuali che noi possiamo dare in questo tempo. Quindi vi aspettiamo dal 4 all'8 ottobre, San Vincenzo, Garden Toscana Resort, Out of the Cave, per risvegliarci fuori dalla caverna.